Nero Stellati in Serie D, Martinsicuro Alba Adriatica e Paterno Francavilla i play-off, Montorio Amiternina e Morrodoro Miglianico i play-out. Il campionato di eccellenza ha emesso questi verdetti, che vanno ad aggiungersi alla retrocessione in promozione della Virtus Teramo, già definita da tre giornate. Il colpo di coda dei Nero Stellati di Pratola Peligna ha scritto la parola fine nella vincente lotta al titolo. Un testa a testa appassionante, con le squadre dei mister Di Fabio e Di Marzio appaiate fino agli ultimi 90 minuti. Il calendario e un paio di passaggi a vuoto del Martinsicuro nella fase decisiva hanno fatto la differenza. Alla fine i Nero Stellati hanno fatto appieno il loro dovere, battendo non senza soffrire il capistrello, mentre i Truentini non sono riusciti a fare bottino pieno nella difficile trasferta di Morrodoro contro una squadra che ha accullato il sogno di raggiungere la salvezza diretta con una vittoria contro la capolista. Alla fine il pareggio ha vanificato gli obiettivi di entrambe. Festa grande a Pratola, dove più di mille tifosi si sono dati appuntamento al campo per salutare l'impresa storica dei Nero Stellati, capaci di fare il doppio salto di categoria nel giro di un anno. Per il Martinsicuro invece si aprono le porte girevoli dei play-off. L'avversario in semifinale sarà l'Alba Adriatica, per un derby che si rinnova mettendo in paglia un traguardo importantissimo. La squadra di Mister Di Fabio ha due risultati su tre e il fattore campo a favore, ma nulla può essere dato per scontato visto il valore degli uomini di Pasqualino di Serafino. Chi passerà il turno se la vedrà in finale con la vincente di Paterno Francavilla, le due grandi deluse del campionato che vorranno riscattare una stagione per molti versi altalenante. In coda il Morrodoro ha accarezzato il sogno di agguantare la salvezza, salvo poi risvegliarsi nei play-out dove l'avversario sarà il Miglianico. Fattore campo e posizione di classifica favorevoli alla squadra di Mister Deugenio, che dovrà compiere l'ultimo sforzo per conservare la categoria. Lo stesso dicasi per il Montorio, che addirittura la salvezza l'ha avuta in mano fino ai secondi finali della gara contro l'Alba Adriatica, salvo subire il gol del pari a tempo scaduto che ha ripiombato i gialloneri nell'incubo. Lo spareggio contro la Miternina. Anche in questo caso posizione di classifica che avvantaggia la squadra di De Feudis per la permanenza in eccellenza. Finale col sorriso invece per River Chieti, Nonostante il K.O. di Paterno, in virtù degli scontri diretti favorevoli nei confronti del Montorio, Acqua e Sapone e Penne, autore della vera impresa di stagione, grazie alla rimonta dall'ultimo posto guidata dal condottiero Paolo Savini.